per piacere tengo da fare hai messo a dormire i bambini è mezzogiorno scusa no volevo dire mangiare dato da mangiare ma perché ci fa il brodino che è quello non stessi ma come la trippa ai bambini c'era la trippa scusi devo lasciarti ma io l'assegno glielo inviato no non glielo invio un altro assegno grazie adesso da fare buongiorno buongiorno tutto a posto allora cosa abbiamo fatto convocare qui perché ci sono delle novità che riguardano le prossime puntate prego cominciamo da quella diciamo sostanziale alberto papà del piccolo mirko deve fare un viaggio c'è una bellissima scena in aeroporto tu parti sei febbricitante bellissima vedrai bellissimo il bambino ti ha accompagnato ovviamente c'è anche tua moglie grazie il bambino ovviamente vi vuole vedere insieme e abbiamo inserito anche questa scena tra te e tua moglie bellissima la vedrai bellissima bravi mancava proprio una scena così proprio quando stai per imbattare